Stiamo partendo con una ricostruzione totale. Adesso voltiamo pagina, adesso vi sto dicendo, guardate che ricostruiremo un Napoli fortissimo. Ci vuole tempo, perché c'è bisogno di rinascere. E che rifondazione totale sia. Perché fare di peggio di questa annata misera è impossibile. Il Napoli riparte da zero. De Laurentiis ha intenzione di scrivere un nuovo libro azzurro. Archiviati i primi 19 anni si deve ripartire con un organico diverso. Sicuramente, perché bisogna lasciar partire chi vuole andare via e non è contento. E poi perché tutti sono cedibili, nessuno escluso. I calciatori sono tutti cedibili, sempre, sempre. Bisogna vedere chi è che se li vuole comprare. Si farà quindi tesoro degli errori del passato, perché è palese. Quest'anno ne sono stati fatti molti. Secondo il Presidente, addirittura prima della conquista dello Scudetto. Errori che partirebbero da quel 4-0 con il Milan. Punto di non ritorno della crisi azzurra e della rottura totale con Giuntoli e Spalletti. Oggi si temporeggia, prima di annunciare il nuovo allenatore. Perché se è vero che per vincere servirà tempo, c'è bisogno anche di tempo per evitare altre scelte azzardate, come quella che l'estate scorsa portò a Rudi Garcia. Oggi come oggi, io purtroppo non vi posso dare nessuna notizia. La notizia che ormai voi avete fatto circolare da tempo e che ci sarà sicuramente un nuovo direttore sportivo che dovrebbe quindi appalesarsi, speriamo, al più presto. Intanto si pensa al futuro, al nuovo stadio, che sarà ancora il Diego Armando Maradona. De Laurentiis ha capito che l'unica scelta sensata è ristrutturare l'impianto di fuorigrotta, sempre che il comune non si metta di traverso. Io voglio metterci non più di due anni dal momento in cui metterò mani all'ex San Paolo nuovo Maradona. Punterò sul Maradona, sempre che il sindaco Manfredi non ha promesse da marinaio e non ha chiacchiere, si siederà, perché poi questo sindaco, la cosa straordinaria, è che non c'è mai. Accanto al progetto stadio poi anche quello del centro sportivo, a 15 minuti da Napoli possibilmente, che nel giro di un anno dovrà essere realtà. Insomma, siamo all'anno zero del secondo libro azzurro, speriamo che abbia una trama avvincente e un finale trionfale.